L'appartamento di Olin è così vuoto. Dovrai dormire, sto dimenticando qualcosa. Come facevi a dormire, Elisabeth, con il peso di una responsabilità come la tua? E invece tu, Rost, dopo che hai perso la tua famiglia? Silence, per caso ci sei? Forse non dovrei chiedere consiglio ai fantasmi. Signora, ci sono segnali da ovest. Il re sole Avad vi attende al Tempio del Sole. E' un falò, per caso. Forse stanno radunando le forze per l'assedio alla città. Non è legno che brucia. E allora cos'è? La fine. O il suo inizio, almeno. Gli sterminatori di cui parlavo... Alle armi! Alle armi! Subito! Per il sole, fate come dice! In posizione! Preparatevi, pronti all'attacco! I cannoni li fermeranno. Stiamo per scoprirlo. Alice! No! No! Raduna le avanguardie e chiama i rinforzi! Ma lui... No! Quei cannoni ci servono! Ma lui ti farà a pezzi! No, stavolta! Intrusa! Avresti dovuto affrontarmi al cerchio del sole, allora. Meritiamo la porta con il sangue. Ti insegnavo. Perchè la porta di... No! 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 Non vede, hai levitato. Accentate. Accentate la tua debolezza. Non rispetta nessuno, non c'è nessuno. Se gli sterminatori continueranno a colpire, il ponte cadrà. Niu, non c'è nessuno. Maledizione È veloce L'ha parata ancora Maledizione Il fonte non può resistere ancora a lungo Sta per crollare Cosa sei? Pronti al terrore del sole Quella che ti farà fuori Io sono stato scemo Tu vieni dal nulla Morirai Come una nullità Una selvaggio Non può capire il destino Il tuo parco è segnato Io sono stato scelto Questo non l'ha previsto Scelto Ave ti ha scelto soltanto perché sei un folle Un carnefice sadico Troppo stupido per capire di essere stato usato La tua vita è stata un fallimento E presto E presto Nessuno si ricorderà più di te Adesso voltati verso il sole E pezzaci bene E pezzesti E pezzesti E pezzesti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Spara contro la tua piattaforma. Spara contro la tua piattaforma. Eccolo, arriva. Spara contro la tua piattaforma. 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 Sì, vanno a dare su un altro piano. 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 E prepararmi. Alle vostre armi, a Ovet! Alla vostre armi. Alla vostre armi. Meglio andare. Alla vostre armi. Alla vostre armi. Agh! Grazie a tutti. 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 Aloy! Aloy! Sam... Per la madre, sei viva. Credevo fossi morta. Gli altri sono... No, no, sono feriti ma per fortuna sono vivi. Le macchine ci hanno travolto, poi hanno proseguito. Hanno marciato sulla guglia trascinando quella cosa con loro. Prenditi cura degli altri, io devo andare. Io devo andare. Devo proseguire. E' arrivato il trascinando. È arrivato il tramonto. E' arrivato il trascinando. 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 E' mi seguraed una cosa qd I t'ai visto in spade bella. Delahmo. è iniziata ade sta trasmettendo a Se Ade ha avviato il segnale, deve essere riuscito a superare le difese. Nora, l'avanguardia di Eren, devo arrivare lassù. Ancora, l'avanguardia di Eren, deve essere riuscito a superare. Ancora, l'avanguardia di Eren, deve essere riuscito a superare. Ancora, l'avanguardia di Eren... Ancora, l'avanguardia di Eren, deve essere riuscito a superare. Devo continuare. Non posso fermarmi. Sapevo che non era... facile. Quindi non si torna indietro. Aloy! Sono vivi. È Aloy! Beh, lo vedete. Pensavamo che fossi caduta al crinale. No, è caduto lui su di me. Non ci rimane molto tempo. Devo affrontare Ade. Non da sola. Tocca a me. Non posso chiedervi di seguirmi. Andavamo comunque verso la cima, giusto? Bene. Il demone di metallo deve cadere. Dovrei rifornirmi. Ora o mai più. Il demone di metallo deve cadere. L'arrivo dell'entità. è stato anticipato. L'entità non interromperà la trasmissione. Al contrario, i calcoli sono precisi. la presenza dell'entità era prevista. la presenza dell'entità non interromperà la trasmissione. 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 L'ultima è a terra, per ora Ne abbiamo spazzate via L'ultima è a terra, per ora Abbiamo tempo Ok, ancora tempo Ok, ancora tempo Attenzione, ha chiamato rinforzi Concentriamoci sulle nuove macchine L'ultima è a terra, per ora Ok, ancora tempo Se l'abbiamo fatta Abbiamo distrutto l'ultima corrotta Ok, ancora tempo Possiamo ancora partita Ok, ancora tempo 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 Che doveva importarmi, disse Elisabeth. Essere intelligenti non significa nulla se non rendi il mondo migliore. Devi usare la testa per valere qualcosa e servire la vita, non la morte. Racconti sempre storie di tua madre, ma tu non hai figli. Non ne ho avuto il tempo. Forse è stato meglio così. Se avessi avuto un figlio, Elisabeth, come avresti voluto che fosse? Immagino che avrei voluto che lei fosse curiosa. E ostinata, inarrestabile anche. Ma con abbastanza compassione da guarire il mondo. Solo un po'. Comunque, per oggi è tutto, Gaia. È ora di dormire. Ti auguro sogni d'oro, Elisabeth. Grazie. A domani. Ciao, mio vecchio amico. Ti ricordi di me? Abbiamo ancora molte cose di cui parlare. Molte cose da scoprire. I tuoi padroni, per esempio. Quelli che hanno inviato il segnale per risvegliarti. La conoscenza ha i suoi vantaggi, non credi? Bene. Iniziamo. Venite. Grazie. Grazie.